E dopo elezioni a PD, SEL e PDAL abbiamo chiesto di commentare i risultati delle elezioni in Puglia. Bisogna cambiare il sistema rimettendo al centro il lavoro per il rilancio del paese e del nostro territorio. Così commenta Pino Gesvundo, segretario generale della CGL, di Bari, i risultati delle elezioni. 25,45, 24,6 al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Come per il Senato e anche per la Camera, il maggior numero delle preferenze è stato ottenuto dalla coalizione di centro-destra, 32,96. Segue la coalizione di centro-sinistra, 24,47, 25,52 al Movimento 5 Stelle. Sentiamo il commento a questi risultati cominciando dal sindaco di Bari, Michele Emiliano, che dice lo tsunami di Grillo è una straordinaria occasione per cambiare il paese. L'intervista. Io ovviamente sono sempre un po' controcorrente, nel senso che tento di fare i pensieri mettendomi dal punto di vista obiettivo, non dal punto di vista di chi fa parte di una consorteria o di un gruppo. Io credo che sia un'occasione strepitosa per cambiare il paese, questa composizione del Parlamento, perché noi abbiamo un centro-sinistra che ha vinto numericamente le elezioni, ma che ovviamente esce sconfitto nel suo progetto di mediazione. Non è bastato dire che l'Italia ha bisogno di persone serie, che nel PD e nella maggioranza di centro-sinistra ci siano delle persone serie, non è in discussione, ma non basta essere delle persone serie per prendere un popolo e tirarlo fuori dall'angoscia e dalla disperazione, occorre altro. Questo altro è arrivato da questo straordinario tsunami grillino. Dentro quel popolo c'è il popolo che ha cambiato la storia della città di Bari nel 2004, la storia della Puglia nel 2005, con le vittorie mie e di Vendola. Noi poi ce lo siamo fatto scappare, ci siamo andati forse a infilare nei palazzi e abbiamo forse un pochino mancato di mantenere il collegamento. Certo non è facile, come si dice, avere un occhio ad una cosa e l'altro all'altra. Noi eravamo impegnati in un lavoro amministrativo molto duro e forse sarebbe stato compito dei partiti, di Selle e del PD, tenere aperto questo collegamento con il popolo che vive una situazione di gravissimo disagio che evidentemente a chi è seduto negli scranni parlamentari di Roma sfugge completamente questo dolore. Adesso serve prendere dei provvedimenti, per esempio il reddito minimo di cittadinanza. Noi abbiamo una serie di ammortizzatori sociali che vengono trattati e sono a disposizione solo delle grandi aziende. Quando chiude una piccola o media azienda i dipendenti vanno per strada e il titolare di questa azienda è disperato non solo perché ci ha rimesso tutti i soldi suoi, ma perché ha messo per strada tutte le famiglie delle persone con le quali ha lavorato per tanti anni. E quindi dobbiamo cambiare il sistema. Il sindacato dovrà aiutarci perché il sindacato italiano che pure come il PD è fatto di tante persone serie ha bisogno di una grande modernizzazione. Senza il sindacato la rivoluzione che Grillo sta imponendo al sistema politico italiano è impossibile. Noi se un errore abbiamo commesso è quello di pensare che bastasse riorganizzare il PD per risolvere i problemi dell'Italia. Ascoltiamo ora l'intervista a Onofrio Introna, presidente del Consiglio regionale, candidato Selle al Senato ma non eletto. Il merito di Selle dichiara Introna è aver reso meno pesante la sconfitta portando nel centro-sinistra un consenso che prima non c'era. l'intervista. Selle ha avuto il merito di aver portato nel centro-sinistra un consenso che le scorse politiche non c'era. Col suo 7% ha dato una stabilità, anzi ha reso meno pesante la sconfitta in considerazione anche del risultato non esaltante del PD. Democratico. Che succede adesso in Puglia? Sino a quando il presidente Wendel non deciderà e io non so se questo è il periodo nel quale lui possa decidere di abbandonare la Puglia il Consiglio regionale andrà avanti nella pienezza dei suoi poteri. Io ritengo che questa pienezza ci consente di continuare in Puglia in questa azione di buon governo che ha portato la Puglia a scalare molte classifiche delle eccellenze nel nostro paese. Tuttavia i pugliesi non hanno premiato questo buon governo? Ma questa responsabilità non è dei pugliesi, la responsabilità è delle forze politiche, dei partiti che non hanno saputo farsi comprendere o che non hanno saputo indicare soluzioni, politiche, appuntamenti futuri sui quali i pugliesi potevano riconoscersi. Ed ora ci spostiamo in via Capruzzi al Consiglio regionale con 19.000 preferenze, Massimo Cassano del PDL è stato eletto al Senato. Il centrodestra deve lavorare con tutti, soprattutto deve lavorare con il territorio e la CGL, dichiara Massimo Cassano, è un punto di riferimento importante per Bari e tutta la sua area metropolitana. Sentiamo. La vittoria al centrodestra è netta, sicuramente Berlusconi ha fatto la sua parte e gli avversari probabilmente non avevano competitor all'altezza di Berlusconi, diciamolo chiaramente. Noi dobbiamo lavorare con tutti, con il territorio, con i sindacati. Io sono felice di essere intervistato da voi perché ritengo la CGL un punto di riferimento importante per quanto riguarda il territorio, anche per la bravura di Gesmundo che è molto presente sul territorio. Però un consiglio anche ai sindacati e quindi anche alla CGL in questo caso. Il sindacato deve imitare un po' quello tedesco, deve essere un sindacato staccato dai partiti, staccato dai partiti senza colori. Il consiglio che do ai lavoratori, al sindacato e Gesmundo è un giovane capace in questo, è creare una collaborazione tra le istituzioni tra di noi e staccare il più possibile il sindacato dai partiti. Imitare un po' quei sindacati moderni, ho fatto l'esempio della Germania ma ce ne sono tanti, che crea una collaborazione. Addirittura i dipendenti sono soci delle aziende, i dipendenti diventano uno strumento il più importante delle imprese. Questo dobbiamo fare. Io credo che noi possiamo farlo tranquillamente con i nostri sindacati anche perché siamo rappresentati bene a livello territoriale. Bisogna cambiare il sistema, rimettendo al centro il lavoro per il rilancio del paese, per il rilancio della nostra regione, la Puglia, così commenta Pino Gesmundo, segretario generale della CGL di Bari, il risultato delle elezioni. Ascoltiamolo nell'intervista. Emiliano ha commentato l'esito di queste elezioni dicendo che lo tsunami di Grillo è una straordinaria occasione per cambiare il paese? Vedremo, vedremo se è una straordinaria occasione oppure rischiamo di portare il paese ancora indietro. Certo c'è un problema serio che va analizzato, c'è un problema che attiene a milioni di cittadini italiani che non si sono sentiti rappresentati dal progetto politico, dai progetti politici classici di questa nazione, dai partiti politici che si proponevano di governare questo paese. Bisogna analizzare questo dato perché in quei milioni di voti ci sono tanti lavoratori, tanti pensionati, tanta gente che soffre, probabilmente è stata trascurata dalla politica, bisogna ragionarci. Se questa è una straordinaria occasione vedremo, verificheremo con i fatti, ho qualche dubbio, ma verificheremo con i fatti. La CGL di Bari, ma la CGL in generale da tempo che dice che bisogna cambiare sistema, bisogna fare in modo che la politica si riappropri del territorio, si riappropri dei bisogni dei cittadini e provano di interpretarli e risolverli. La CGL da tempo sta in campo, intanto sta provando a sensibilizzare questa classe politica che distratta e disattenta molto spesso. A Bari abbiamo provato a porre l'attenzione, a mettere al centro della discussione il lavoro, a mettere al centro della discussione i bisogni dei cittadini, soprattutto dei più deboli, dei lavoratori e dei pensionati, ma soprattutto il mondo dei giovani e dei disoccupati. Stiamo lavorando in questo senso, stiamo provando a riproporre argomentazioni di merito e evitando di buttarla come al solito sulle politiche generale generiche che non producono nulla. E una mano la tende anche il PDL. Il senatore Cassano dice che dobbiamo creare una sorta di collaborazione con il sindacato che sta lavorando bene sul territorio. Io apprezzo questi giudizi che il senatore Cassano fa nei confronti della nostra organizzazione perché ho bisogno di riconoscere che tra la CGL e la nostra organizzazione e il partito nel quale lui milita ci sono parecchie differenze. È bene confrontarsi sempre nel merito, se c'è una volontà di discutere di merito per provare a risolvere qualche problema, bene, tutte le convergenze sono utili e dovranno essere utili. È un maggior senso di responsabilità da parte di tutti, provando a ridurre le differenze, le distanze. È un buon viatico per risolvere i problemi della gente. Da SEL, da Onofrio in Trona, arriva il monito a voler fare ancora di più, nel senso che questo governo regionale ha comunque la fiducia dei cittadini, ma questo non basta. Sono stati fatti degli errori, ecco la riflessione sugli errori per ripartire. Sicuramente il governo regionale pugliese è un governo regionale che ha fatto delle cose, che ha risolto dei problemi, che ha posto l'accento su questioni importanti che riguardavano gli ultimi e le persone più disagiate. Ma se i risultati sono questi, delle due l'una. Non siamo stati in grado di farci intendere e quindi dobbiamo fare di più per raggiungere i cittadini, oppure evidentemente qualche politica va rivista e bisogna tener conto meglio e di più di quali sono i disagi, perché non li abbiamo saputi interpretare. Penso che bisogna ragionare seriamente rispetto a Italia e la politica, bisogna moralizzare la politica, impregnarla di etica vera e seria. Queste sono risposte che vanno andate immediatamente. Su questo il Parlamento si deve cimentare subito e provare a trovare maggioranze che convergono. Il rischio è che salti un pezzo di democrazia di questo Paese, che i cittadini possano davvero indignarsi al punto di non sentirsi più rappresentati e poi rischiare che i livelli di democrazia e le garanzie istituzionali di questo Paese possano risentirne. Quindi poche cose intanto, ma subito, che vanno fatte immediatamente, compreso il fatto di mettere al centro i temi del lavoro e dare un po' di respiro a chi non ce la fa più e veramente non riesce più a mettere insieme il pranzo con la cena. Rispetto alla Puglia, rispetto alla CGL, noi abbiamo le nostre proposte, abbiamo lanciato il piano del lavoro, da tempo continuiamo a dire le cose che vanno fatte in questo Paese, ma anche in questa Regione, speriamo che ora alla luce di questi dati qualcuno ci stia ad ascoltare in maniera più attenta. Il lavoro deve stare al centro, bisogna recuperare una fiducia dei giovani rispetto alle istituzioni, rispetto alla politica, ma si fa in maniera concreta. Bisogna mettere in piedi riforme che provino a far girare la macchina, c'è bisogno di questo. I temi fondamentali sono i giovani, il lavoro e lo sviluppo. Su questo dobbiamo discutere, ovviamente attraverso anche questa impostazione, questa cornice che è la ripresa dell'etica, della politica e della correttezza dei comportamenti di chi prova a rappresentare le istituzioni e la politica di questo Paese. Noi facciamo la nostra parte, proviamo a farla, da tempo sia a livello nazionale ma anche al nostro livello proviamo ad interlocuire con tutti, da destra a sinistra senza strumentalizzazioni varie, come vediamo apprezziamo anche i giudizi del centro-destra rispetto alla nostra attività che finché sta al merito delle questioni è evidente che è inconfutabile l'attenzione che noi avevamo posto rispetto ai problemi della gente e di questo territorio. Insomma rimettiamo al centro il lavoro, proviamo a socializzare le idee e proviamo a mettere in sinergia l'energia di tutti quanti e provare a lavorare per rilanciare questo Paese e questo territorio. Ci sono le competenze, le capacità e le risorse. Noi peraltro abbiamo pure proposto il nostro piano di rilancio e di sviluppo del territorio, su quello vogliamo confrontarci con tutti. Bene è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale Cigele Bari Web TV ma anche sul nostro sito internet www.cgelebari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7.40 circa e alle 24 in replica. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.